Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro Otto di Torino. Ciao, io sono Federico e oggi vi parlerò dei pinguini. L'origine di pinguini oscura probabilmente è essere rappresentato l'evoluzione di uccelli simili ai gampiani. Hanno vissuto in uno stato in cui erano in grado di sia di volare che di nuotare. Oggi non sanno più volare, ma sono ottimi nuotatori e tuffatori. Usano le ali come pinne per avanzare nell'acqua dove si muovono con agilità d'eleganza, saltando fuori da intervalli regolari come delfini per respirare. I pinguini vivono sulle coste di tutto l'emisfero meridionale, dal polo su da prima addirittura al lago al Pagos. Questo è l'equatore. Esistono 17 specie di queste uccelli di dimensioni molto diverse. Al pinguino imperatore, che è alto 1,20 m e pesa 40 kg. Al pinguino minore, che è alto 30 cm e pesa poco più di 1 kg. Sono stati trovati scheletri di pinguini che raggiungevano i 2 metri di altezza. Sono uccelli dalla vita molto lunga, che in media dura 15 anche 20 anni. Come già detto, esistono diverse specie. Tra le più importanti troviamo il pinguino imperatore, che raggiunge il metro di altezza. nasce tra i ghiacci del continente gelato, dove migra per passare il rigido inverno. La femmina dipone un solo uovo, il pinguino reale e il più piccolo, ma molto simile al pinguino imperatore. Il pinguino di Adelia, con il becco corto, sino al molti anni ora sono, era la specie più numerosa. Il maschio può digiunare anche sei settimane mentre si dedica alla cova. Il pinguino papua è il più veloce e un provetto nuotatore. Infatti caccia come se volasse sott'acqua. I pinguini crestati sono quelli che vivono più a nord, vicino all'Antartine. I pinguini crestati sono i più nordici, infatti nidificano nelle isole intorno all'Antartine. Il pinguino artico è il più piccolo di tutti. Esso vive soprattutto alla costa occidentale dell'isola antartica nelle isole subantartiche. Ciao a tutti, siamo Arianna. Dario. E oggi vi leggeremo il testo dal titolo 68. Quando fa tappa in un qualche porto, il capitano del vascello fantasma scende a terra assieme al suo secondo. Ha sempre molto denaro con sé, della moneta corrente al porto in cui ha fatto scalo. Il denaro gli viene recapitato alternativamente da un demone ed un angelo. Il capitano, come vecchio marinaio che è lieto di ritrovarsi in un luogo umano, si reca in una gargotta e saluta tutti i presenti con grandi gesti cordiali della mano e con cerimoniosi e burleschi inchini. Il secondo, un uomo alto, magro e pallido, si limita ad un taciturno sorriso da subordinato. Ma il capitano è sempre al meglio del suo umore. Eccolo che offre da bere e vuole che servano a lui e dai suoi ospiti del meglio che si può avere. E tutto paga con quel suo denaro, sempre nuovo, dallo strano suono sul bancone dell'oste. Il capitano non fa mistero di sé. Si presenta subito, a gran voce, come il capitano del vascello fantasma. Questa sua dichiarazione è accolta da taluni con cordiali risate, come una spericolata battuta che piace sentir dire ad altri, sebbene nessuno, in quella gargotta, avrebbe l'audacia di dirla. E c'è sempre qualcuno che abbandona la compagnia in gran fretta. Ed è un gran peccato, poiché il capitano ha sempre delle belle e golose storie da raccontare. Mentre il suo palido, secondo un po' troppo palido, ascolta senza interferire. Il capitano racconta storie di pirati e di tesori nascosti, che di tutti i cerchi nessuno trova. Anche storie di donne bellissime, per conquistare le qualunque impresa è una sciocchezza. E poi duelli dove si trova il buon vino e le balenne che vanno in giro con un bosco sul dorso. E dentro il bosco abituano le sirene. Racconta anche storie di purre ed imbroglie di astuzzi di donne. E non sempre bisogna pur dirlo. Il suo linguaggio è castigato come dovrebbe. Ma quella che ascolta non è gente da adottarsene. E alla fine si congeda. Con nuovi inchini e sventolio di mani. Retroducendo verso la porta, poi si volta e apre per uscire. E il primo vento della strada lo investe. Allora la compagnia vede, prima in credola e poi si indiatrita, a cotricciarsi i vestiti del capitano ed il secondo. Come se non avessero corpo, anzi fossero affatto vuoti. Mentre i due vestiti, fultuando, si allontanarono. La brigata, fatta citurna, rimpensa la folle del capitano. E capisci che egli ha mentito e che nessuno saprà mai di lui. Le tormentose storie della sua nave, della sua navigazione, le cose che hanno veramente visto in quegli occhi inesistenti. Allora, buongiorno a tutti, io sono Lorenzo. E oggi, come al solito, ho tre argomenti. Eh beh, prima di iniziare, io volevo avvisarvi che che il terzo ed ultimo argomento sarà dedicato alle nomination per quanto riguarda due cerimonie di premiazione molto attese per quanto riguarda la stagione dei premi. Guillermo del Toro, svelato il nuovo prossimo film in stop motion del regista dopo Pinocchio. Dopo il classico italiano, il regista misicano adatterà il romanzo di un amatissimo premio Nobel. Da un burattino ad un gigante. Perché? Guillermo del Toro non si ferma e dopo aver realizzato il suo nuovo adattamento d'animazione in stop motion di Pinocchio per Netflix, lui è già al lavoro sui suoi nuovi prossimi film. Uno di questi sarà ancora in stop motion. E anche questa volta il regista premio Oscar ha pescato a piene mani dal mondo della letteratura. Come ha dichiarato lui stesso durante un'intervista con il Telegraph cioè via Collider, dopo Carlo Collodi, lui ha deciso di passare ad un premio Nobel per la letteratura, ovvero il giapponese Casuo Ishiguro. Del Toro ha detto il prossimo film in stop motion che io farò adatterà il gigante sepolto. Io lo sto scrivendo con Dennis Kelly e noi inizieremo il processo di design nei prossimi due mesi. Prima di mettersi al lavoro su questo film prima io girerò un live action. Nel frattempo sta sviluppando un lookbook. In circa due anni, se tutto va bene noi cominceremo a girarlo. Pubblicato nel 2015 Il gigante sepolto è il settimo romanzo di Casuo Ishiguro ed è ambientato nell'Ighilterra successiva alla dominazione romana e al regno di Re Artù mescolando insieme elementi del medioevo e del fantasy. I protagonisti sono Huxle e Beatrice coppia di anziani che lascia la propria comunità per un viaggio in cerca del figlio scomparso e dimenticato. Un tipo di storia che Guilermo del Toro ha recentemente dimostrato di maneggiare molto bene considerando che anche nel suo Pinocchio paternità e perdita di un figlio sono diventati centrali. però nel romanzo di Ishiguro è fondamentale anche la perdita dei ricordi e la ricerca della memoria tema che si sviluppa tramite flashback nel corso dei capitoli. Tra fantastico e immaginifico ci sono tutti gli elementi per pensare che il regista di Il labirinto del fauno, Elbo, gli possa esprimersi di nuovo al meglio. A scriverlo assieme a lui c'è Dennis Kelly, cioè lo sceneggiatore di Matilda The Musical di Roald Dahl, cioè Matilda The Musical di Roald Dahl, il film del 2022 e che voi lo potete trovare su Netflix e che è basato sull'omonimo romanzo di Matilda di Roald Dahl. Ciao, a dopo! Buon pomeriggio a tutti, qui è Federico. Riccardo. E quest'oggi vi diretevo una scena di Hotel Transilvania. Wow, la stagia è piccola per essere un castello, non c'è il letto? Ma che figata, questi mazzapolveri che ti danno? Silenzio sciocco! Quali armi tiene questo contenitore? Hai dei fuoconi? Sto soffocando! Adesso muoio! Sì, hanno bisogno di una bella disinfettata. Cos'è questo? Non sto mentendo tanto? Sarebbe per controllare la mente? Non osai leggermi il pensiero! Non provarci più! Posto Richard di fratello, hai musica, senti! Mi sta penando l'anima! Ma dai, una cazzone che spacca! Non fare l'anziano, bello! Devi andatene via! Nessun umano è mai entrato nel castello! E se qualcuno dovesse vederti le sicurezze di questo hotel, un luogo inviolabile! Nessuno metterebbe più zappa qui dentro! Sì, e vai così! Più zappa qui dentro! Adoro la tua voce alla Dracula, è troppo esagerata! E Mavis, se ti vedesse, capirebbe che ho mentito! No! Chi è Mavis? Questa è la sua camera! Sono bravo con i coinquilini! Siamo sei fratelli! So condividere alla grande! Non posso ucciderlo! Io mi sento tornare via indietro di secoli e secoli! Una volta ai pizza ero in camera con una che ho beccato a fregarmi lo shampoo! Ho detto, oh bello! E lui mi ha tirato un vaso di fiori! Ma era tranquillo! Che cosa blatevi, babbeo? Cosa? Wow! Sono pazzeschi questi costumi! Costumi? Ehi, che fai? Scusami! Non posso stare senza il mio zaino! C'è tutta la mia vita lì dentro! Questo rimane qui! Ok! Sono innamorato del mio zaino! Ciao a tutti! Io sono Lorenzo! Riccardo! E per il laboratorio speedhub! A casa dei Loud! A casa dei Loud! Il film 2021! Scena 1! Ordinario! Starei scherzando spero! Tu parli così perché sei il mio migliore amico! Dimmi una sola cosa che mi renda speciale! No! Io te ne dirò tre! C'è! Ha eletto un infomente di Ace a Ovi 2 a volte! Sei il quinto miglior prestigiatore bambino di Roy Woods! E la ricerca di storie che hai fatto è stato come essere davvero la firma della dichiarazione di dipendenza! Oh! E sai cantare! Sono quattro! Chiunque può fare queste cose! Mettiamolo Clyde! Io vivrò per sempre nell'ombra delle mie sorelle! Esattamente! Cosa tirerà su? I miei bignala crema! O come mi piace chiamarli? Sognala crema! Che c'è? Che succede? C'è troppa cannella? Troppa poca! E l'altra nella ricetta non ne parlava! Ma posso aggiungercela? No! No no Clyde! Sono buonissimi! No! E' solo che tu, le mie sorelle, tutti siete bravi in qualcosa! E io! No! Bel colpo Clyde! Hai peggiorato le cose! Beh io non sono così bravo! E allora come mi spieghi questi? Sono solo fortunato! Ho la pesticereina in Degna! Cosa intendi? Ti ricordi quando sono andato in Francia con nonna Gaia? Gaia? Mi ha presentato la bisnonna Make a un forno a Parigi! Bonjour! Lei mi ha parlato della bisnonna Colette che aveva un negocio di crepa a Calais! Bonjour! E della mia bis 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 nonna Elena che preparavo dolci per la famiglia reale! Enchanté! Poi nonna Gaia mi ha mostrato le loro ricette e così ho preparato il bignone a crema! Lei mi ha detto che la pesticereina è nel mio DNA proprio come nonna Mai, nonna Colette e nonna Elena! Ah! Ti ho confuso le idee? C'erano troppe nonne? No! Mi hai appena dato un'idea geniale! Tu sei il miglior migliore amico di sempre! Buongiorno a tutti! Puntata di Radio Teatro Occhio! Per oggi è tutto! Vi aspettiamo alla prossima puntata! Rovante Riccobbeh! Cl periods!